Musica Arte presenta la sua nuova stagione che in nove appuntamenti da gennaio a maggio vedranno calcare il palcoscenico del teatro Margherita di Caltanissetta ad altrettanti nomi del jazz, aprendo le porte quest'anno anche al sole e al blues nella stagione 2022-2023. Durante la serata di introduzione alla stagione è stato il ricercatore di musica del Novecento Gran Michele Taormina a raccontare la storia di Antoni Maggio e del suo legame con Caltanissetta, una parla rara che svela come la radice del jazz si è intrecciata con la Sicilia. Quest'anno la nostra stagione finalmente vedrà la luce grazie alla sinergia insieme all'amministrazione comunale. Il 22 dicembre proporremo un appuntamento che è fuori abbonamento ma sarà di presentazione della stagione che ufficialmente inizierà il 13 gennaio. Gli artisti che si esibiranno sono la ricerca che ha effettuato la nostra direzione artistica cercando non prettamente nel genere musicale jazz ma nelle contaminazioni che di questa musica si fa. Quest'anno ci siamo voluti muovere in maniera nuova e diversa. Ogni sera l'incasso di ogni sera, il 3% di questo incasso verrà devoluto alle associazioni di volontariato che in città si occupano di alcuni problemi. Per ciascuno dei nove concerti pensati da musicarte l'associazione incontrerà gli studenti di un istituto scolastico nisseno per diffondere la cultura e la storia del jazz.